Tre giorni a Natale, facciamo gli auguri di Natale a tutti i cittadini e reggini. Tanti auguri di Natale a tutti i reggini che siano festività da trascorrere in serenità, in famiglia. L'amministrazione ha cercato di contribuire a creare un clima natalizio in città con un forte investimento sulle luminarie cittadine, un forte investimento anche su tutte quelle che sono le attività culturali, teatrali, gli spettacoli che ci accompagneranno da qui a Capodanno e poi fino al 6 gennaio con l'obiettivo di rasserenare gli animi, con l'obiettivo di dare una possibilità anche agli imprenditori e ai commercianti di poter avere qualche spesa in più, ricevere qualche spesa in più dai cittadini, ovviamente senza dimenticare quelli che sono i problemi reali, ma sono convinto del fatto che con un clima natalizio giusto i problemi si possano per qualche ora, per qualche giorno mettere da parte e trascorrere le festività in tranquillità.